Se Bari può diventare la sua nuova Napoli Bari ha un popolo straordinario Bari se ne sta interessando non il signor Aurelio De Laurentiis ma il signor Luigi De Laurentiis che è mio figlio, ha fatto un ottimo lavoro Bari non può c'è una legge, un regolamento che non è una legge un regolamento che ha fatto la Federcalcio sul quale io non sono assolutamente d'accordo, pensi che la UEFA permette a un figlio e a un padre di avere due club che partecipano alle coppe europee se continuerà a esistere questa diciamo autoritaria più che autorevole decisione di Gravina perché l'ha fatto lui di testa sua e noi non dovessimo vincere i vari ricorsi che sono in atto ce ne faremo una ragione e sarà venduto ci metteremo tutta la nostra capacità per portarlo in A dove merita di essere perché c'ha un milione e duecentomila tifosi ci sono molte altre società che operano in serie A che non c'hanno un milione e duecentomila tifosi se lei vede la parcella delle presenze nello stadio reale è l'ottava squadra italiana l'ottava squadra italiana grazie presidente grazie